Ciao a tutte, ciao a tutti. Io, nonostante abbia già fatto altri talk in altri WordCamp, sono molto emozionata. Quindi prendetemi un po' per come vengo oggi. Allora, il full site editing. Il full site editing è il nuovo modo per andare a interagire con i nostri siti Wordpress. È nato come parte importante del progetto Gutenberg. Gutenberg nasce come progetto e vediamo il primo effetto sui nostri siti a dicembre 2018 quando è entrato nell'editor il sistema a blocchi. Però il progetto è un progetto più importante che nel corso degli anni è andato a prendere più aree del nostro sito. Siamo poi arrivati alla gestione dei widget attraverso il sistema dei blocchi e adesso, anche se è abbastanza fresco, ma ci sono già delle cose interessanti, siamo arrivati alla gestione totale del sito attraverso i blocchi. Il full site editing cambia il modo in cui usiamo i temi, ma soprattutto in cui li costruiamo. Io non sto parlando della parte tecnica, perché non sono una parte tecnica, non so come si scriva un tema full site editing. Il mio talk è per chi li usa, i full site editing. Quindi andiamo a vedere tutta quella parte che noi possiamo gestire a livello di editor. Mi fermo solo un momento, provo a fare questo paragone. Fino adesso abbiamo gestito i temi di WordPress come se fossero dei libri. Cioè dentro noi potevamo cambiare le pagine di quello che il libro raccontava, ma la sua copertina era fissa, era qualcosa che avevano deciso gli sviluppatori. Adesso invece con il full site editing noi possiamo modificare anche questa copertina. Ne abbiamo totalmente la gestione. Le aree importanti del full site editing sono i temi a blocchi, quindi temi già costruiti per poter gestire questa funzionalità. L'editor del sito, quindi la possibilità di andare ad applicare i nostri layout alle varie sezioni del sito. Gli stili globali, quindi possiamo gestire la parte che riguarda colori, tipografia. Fino adesso noi potevamo gestire queste cose nella misura in cui lo sviluppatore del tema lo permetteva. Alcuni temi permettevano di avere una gestione molto ampia di stili e colori, altri temi invece erano molto più chiusi e quindi si poteva scegliere fra un numero limitato di opzioni. E l'ultima sezione è il template editor. Quindi proprio la parte che riguarda quando visualizzo una pagina, faccio visualizzare la sidebar, la sidebar la faccio vedere solo quando ci sono gli articoli, ho bisogno di una landing page, non devo far vedere header e footer. Andiamo a gestire tutti questi aspetti. Quindi col tema blocchi puoi pensare tutta la struttura del tuo sito utilizzando con il tema blocchi, l'editor a blocchi, anche per costruire header, footer e sidebar, anche più di uno. E questa secondo me è una cosa molto molto potente, perché fino adesso noi avevamo la possibilità di gestire header, footer e sidebar multipli solamente con temi sviluppati apposta e molto spesso erano anche soluzioni a pagamento, giustamente, perché non è che sia una robetta dare questa possibilità. Sicuramente gli utenti non andranno a crearsi 10 header e 20 footer, ma magari un paio di header c'è bisogno di averli, perché andiamo a personalizzare in modo differente delle aree differenti per indirizzare il cliente dove vogliamo. Ok, tema blocchi. Nel repository, questo non è un talk solo chiacchierato, perché sennò diventerebbe noioso noiosissimo, ma è momento live e momento slide. Quando noi andiamo nel repository dei temi di WordPress, abbiamo la possibilità di filtrare i nostri temi per temi che supportano il full site editing, i block teams, e c'è anche in italiano, adesso non so perché sono finita su quello in inglese, ma va bene lo stesso. Quindi, quando utilizziamo, andiamo a scegliere un tema full site editing, abbiamo la possibilità di vedere anche che caratteristiche ci mette a disposizione questo tema, perché, a parte qualche eccezione, comunque i temi sono pensati sempre per le persone che si approcciano senza conoscenze tecniche, magari senza neanche conoscenze grafiche o di usabilità di un sito a questo mondo. Quindi ci sono alcuni temi che mettono a disposizione delle palette colori preimpostate, quindi l'utente può scegliere come orientarsi all'interno dei colori del sito e, allo stesso tempo, dà la possibilità magari di caricare dei pattern preimpostati. Quindi, con pochi clic, io ho la possibilità di andare a creare in modo più veloce e più specifico le mie pagine. Questo è il tema 2024, 2024, che è l'ultimo uscito, ma potete farlo per qualunque tipo di tema. Ve lo andate a scegliere. Adesso vediamo se mi ricordo il nome giusto. Eccolo qua. Questo è un altro tema, full site editing, dove, come potete vedere, avete una palette colori che vi fa una proposta colori e avete tutta la libreria dei pattern precaricati. Provate a immaginare un po' come se fossero degli starter teams. Quindi, andiamo a caricare dei layout che sono già preimpostati e poi li andiamo a modificare, ovviamente, per il nostro progetto. Quindi sta diventando molto più semplice per un utente inesperto poter raggiungere un buon risultato. Poi sappiamo che un sito è molto più del suo aspetto, però è un buon punto di partenza questo e semplifica molto la vita. Ok. Nel nostro site editor abbiamo la possibilità di modificare il template, la home page, la pagina 404 e possiamo gestire le varie parti. Io prima di diventare noiosa, perché so che tendo poi a diventare noiosa, passo alla parte pratica. Allora. Cosa Cosa è che succede con un full site editing? Quando noi andiamo sotto aspetto non abbiamo più molte scelte, ne abbiamo due. O cambiamo tema o entriamo nell'editor del nostro tema. E l'effetto demo, ovviamente, con calma si caricherà. Va bene. In questo momento ho caricato il 2024 come tema. e andiamo a vedere sulla nostra barra laterale, qua a sinistra, che abbiamo la possibilità di andare a gestire delle parti del nostro tema. I pattern sono tutta quella parte che riguarda come gestisco l'header, come gestisco il footer, come vado a gestire anche il mio contenuto, come dicevamo prima. Posso avere un tema con dei pattern preimpostati e quindi io mi costruisco molto, molto rapidamente il mio layout. Abbiamo poi la parte di template vera e propria. Quindi, io ho un template che posso applicare per far vedere gli articoli singoli o l'articolo singolo con barra laterale. Ovviamente sono impostazioni globali. Nel momento in cui io le vado ad applicare, vengono ad applicare a tutto il sito. Quindi, se decido che il mio sito, gli articoli avranno la barra laterale sempre, il modello che vado ad applicare è articolo con barra laterale. Se preferisco gli articoli singoli senza barra laterale, è quello il modello che vado ad applicare. Io ho creato un modello per la landing page e poi vediamo come si applica. E poi ci sono già una serie di pagine che sono preimpostate, come la pagina 404, che tutti se la dimenticano, e poi vengono fuori delle cose orripilanti quando l'utente sbaglia a digitare un URL. La pagina degli risultati di ricerca e la pagina degli archivi. Queste sono tutte pagine che potevano essere gestite se lo sviluppatore del tema lo permetteva. Adesso sono molto più alla nostra portata. Io qui ho creato un template per una landing page dove il mio risultato finale è solamente il contenuto. Adesso questo è un contenuto di prova che mette a disposizione Wordpress per farmi vedere che sto inserendo l'elemento giusto. Io vado a modificarlo andando a utilizzare la matita e qui vado a lavorare a blocchi. Io posso decidere quali blocchi andare a utilizzare. In questo caso ho prima creato un blocco che ho chiamato content un template part una parte del template. Nei siti full site editing noi abbiamo fondamentalmente tre parti del template header, footer e general. General va a gestire la parte dei contenuti interni. Quindi mi sono creata un template part per il contenuto e ho deciso che questo tipo di template mostra solo il contenuto quando viene applicato. Com'è che viene applicato questo template? Entro nella pagina e vi dico di usarlo. qui ho usato altri pattern questa è la mia landing page qui dove c'è la voce template lì dove c'è la voce template io ho la possibilità di andare a selezionare dai template che sono già pronti quello che voglio applicare e se in questo momento il template che sto applicando lo voglio anche andare a modificare non devo rientrare nell'editor io ho il mio link rapido e mi vado a modificare il mio template tra virgolette direttamente nella pagina che sto modificando. Quindi non devo più fare dei passaggi avanti e indietro come invece prima succedeva con gli altri tipi di temi quando dovevo andare a modificare un layout dovevo uscire dal mio editor rientrare nell'editor della modifica del layout e via dicendo io lo so che sto andando lunga me lo sento me lo sento nelle ossa quindi adesso andrò velocissimo e non guarderò neanche più le slide eh? sì ehm quindi qui abbiamo la possibilità di andare a modificare i nostri template qui abbiamo i nostri pattern che sono preimpostati che ci aiutano nella costruzione del nostro sito qui abbiamo le famose parti del template di cui si parlava prima quindi io posso andarmi a creare i template che mi servono e eh andarli ad applicare magari in uno specifico caso adesso facciamo una prova al volo c'è un fantastico più che dice crea pattern lo vado a chiamare header3 perché prima ho fatto delle prove le categorie lasciamo stare cosa sto sbagliando sto sbagliando qualcosa secondo me me lo sento ho sbagliato qualcosa è sempre così è sempre l'effetto ah ok perché ho fatto crea pattern scusate crea una parte del template ho sbagliato gli do il nome e gli dico appunto che deve essere un header si apre l'editor a blocchi io mi vado a prendere dal repository che qua in inglese non me lo ricordo mi vado a prendere un pattern ad esempio questo io ho il mio nuovo header in questo momento non è associato a niente sono io che adesso vado a cambiarlo io paradossalmente posso avere un header per le pagine e un header per gli articoli se vado sotto template articoli singoli vado a scegliermi molto semplicemente l'altro header lo vado a sostituire eccolo qua header 3 l'avrò salvato comincio a dubitare di avere salvato e poi l'altro me lo vado me lo vado semplicemente a cancellare non sono sicura di aver salvato l'header passatemi passatemi la diretta vediamo cosa è successo nel front end allora questa è la nostra home mi sono completamente persa l'header fantastico bello fare le cose in diretta perché finisce sempre che c'è qualcosa che non funziona questo poi l'aggiusto perché il tempo è tiranno l'ultima parte che vi faccio vedere è la parte degli stili noi qui abbiamo la possibilità di andare a selezionare uno stile preimpostato e abbiamo la possibilità di andare a modificare i nostri stili quindi posso scegliere a ogni tipo di elemento che stile tipografico andare ad assegnargli come il testo il link come i titoli in questo momento i miei titoli sono con un carattere sans serif io gli posso assegnare un carattere serif e queste modifiche diventano delle modifiche globali che si applicano a tutto il sito allo stesso modo posso andare a decidere il colore del mio pulsante no perché queste sono nella parte della tipografia quindi vado a scegliere la tipografia dei miei pulsanti è cambiata oppure vado a scegliere i colori quindi nel mio pulsante posso andare a scegliere che il ecco magari non qua lo sfondo sfondo è meglio vado a scegliere di modificare il colore di sfondo del mio del mio pulsante sapevo che arrivavano che mancano dieci minuti allora qual è il succo allora volevo farvi vedere ancora solamente un paio di cose che di solito vengono chieste se riesco ad andare a ripristinare il mio template per la pagina perché mi sono persa la navigazione allora Grazie. Ma sì, facciamo un pasticcio. Che ci piace il pasticcio della diretta? Allora, così ho un header, ma soprattutto ho un'icona. Molto spesso le persone non sanno più come gestire l'icona, non sanno più come gestire la favicon con il full site editing. La favicon è l'iconcina che compare sulle schede del nostro browser. Quando io vado a inserire un logo, perché esiste il blocco logo, questo è proprio il blocco logo del sito, quando mi si aprono le opzioni di questo blocco, qui io ho la possibilità di utilizzare questa icona, questa immagine come icona del sito. Quindi, attivando questo pulsante, automaticamente il logo del mio sito verrà anche associato come favicon. Qual è la questione? Che io posso avere il logo del sito orizzontale, ma ho bisogno di una favicon quadrata, quindi in qualche modo devono essere differenti queste due cose. Se ho questa necessità, qui c'è un link dove rimanda alla possibilità di andare a selezionare un'icona specifica per il mio sito. Si torna al vecchio customizer e io vado a selezionare l'icona per il mio sito. Quindi posso andare a disgiungere il logo del sito che viene utilizzato nell'header dalla favicon che poi viene utilizzata dal sito. Va bene. Come vi dicevo sono emozionata, quindi qualcosa non ha funzionato, però sono qua tutto il giorno, quindi possiamo ritentare insieme. Lasciamo qualche minuto. Abbiamo più che qualche minuto per le domande perché ne abbiamo ben sette. Subito una domanda qua. Faccio anche... Il customizer si può fare ricomparire? Non ho... Il customizer che c'era nei vecchi temi. Allora, il customizer non è sparito ma si può fare riapparire perché se noi andiamo, non c'è l'unico link diretto dentro il full site editing e qua sull'icona del sito con impostazioni dell'icona. Facendo clic lì, noi arriviamo al customizer, se vogliamo passare dalla parte editor. Se no, possiamo andare a mettere nell'UR del sito dopo vm-admin-customize.php e torniamo a vedere il nostro customizer. Ho risposto alla tua domanda? Ce l'hanno nascosto. Dubbi? Ok. Faccio io, faccio io. Almeno ne approfitto per tenermi in forma. Buongiorno, grazie Gloria. Molto interessante l'argomento, sicuramente. Io ho una domanda, la tua impressione sul futuro di WordPress. Perché con l'introduzione del full site editing Gutenberg, ormai che è utilizzato da molti di noi, è vero anche per te che nei prossimi anni ci potrebbe essere un incremento dei temi che ovviamente supportano Gutenberg e magari una diminuzione dell'utilizzo degli editor visuali. Di sempre più temi con magari associati un pacchetto di blocchi per Gutenberg. Secondo me dipende un po' da quanta pubblicità si faranno i temi a blocchi. Perché se una cosa c'è ma nessuno sa che c'è, non viene utilizzata fondamentalmente. Quindi secondo me è un po' presto, cioè secondo me si parla di parecchi anni. Forse quando ci sarà fra dieci anni un altro work camp parleremo solo più del full site editing. Però in questo momento ci sono ancora dei temi che alla vecchia maniera avranno vita lunga assolutamente. perché sono dei buoni temi e vengono ancora utilizzati. E poi comunque ci sono sempre nuovi utenti di Wordpress. Lì dipenderà un po' anche dal materiale che troveranno online. Perché se io digito quale tema scegliere per Wordpress, un conto e se i risultati mi parlano del full site editing, un conto e se i risultati mi parlano dei temi tradizionali. Quindi secondo me dipende un po' dalla pubblicità che ci sarà sui temi a blocchi. Prossima domanda? Ok. Volevo chiederti come vengono gestiti gli aggiornamenti se è necessario fare il tema child anche con questa tecnica? Non è più indispensabile fare il tema child. Perché comunque le modifiche vengono salvate e quindi l'aggiornamento del tema non va a sovrascrivere le nostre modifiche. dopodiché poi nel repository ci sono dei full site editing child di altri full site editing. Ma perché lì vanno innestate delle funzionalità che si va a lavorare a livello di codice? Ma tutta la parte estetica viene salvata e quindi non c'è più la necessità di avere un child team. Ancora una? Due domande? Nessuno? Siete timidi? Sono timidi. Non siate timidi? Gloria è buona anche se all'inizio non sembrava. Eh? Gloria è buona anche se all'inizio non sembrava. Adesso sarò a far funzionare quello che non mi è funzionato in diretta. Eventualmente se avete domande anche sulla parte che non è funzionata in diretta ti troviamo in giro per il WordCamp fino alla fine del WordCamp. E anche nei prossimi WordCamp perché non ci libereremo facilmente di te. No. Un applauso ancora a Gloria. Grazie. Grazie.